Cos'altro ti posso dire di me? Sono solare, divertente e un po' pazza. Sì, ho molti amici e in generale credo molto nei contatti umani. Mi piace parlare, parlare e ancora parlare. Mi piace vivere la vita senza limiti, senza paure. Con me non ti annoieresti affatto, sai? Conosco un sacco di posti. Poi amo fare foto, leggere libri, incontrare gente. La verità è che potrei stare qui ora a parlarti di me. Ma credo che ci sia un solo modo per conoscersi veramente bene. La verità è che potrei stare qui ora a parlare.